...e che al 44esimo, anche con un po' di sfortuna, viene punito ulteriormente dalla conclusione di Emenike, deviata da Sissoko in barriera, spiazzato Samassà, quarta rete per il nuovo capocannoniere del torneo. Dunque 3-0 il risultato con cui si chiudono i primi 45 minuti di male in Nigeria e ci fermiamo ancora. Linea alla pubblicità.